Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visita il nostro sito, safegatepro.com Un cordiale saluto, bentornati all'appuntamento con le previsioni di TV6. L'anticiclone dell'Azore invade tutta l'Europa centro-occidentale, come evidente da queste immagini satellitari RGB che ci mostrano anche il grado di umidità presente nei bassi strati. Notate in color verde la presenza di aria molto umida e ristagnante, quindi su Francia, Penisola Iberica e parte d'Italia, in violetto aria più setta. Nel corso di questo giovedì avremo tempo stabile su tutta Italia, anche in Abruzzo è una giornata quasi primaverile con tanto sole per tutta la giornata e un ulteriore lieve aumento termico, valori massimi fino a 14 gradi tra Chieti e Pescara, ma non escludiamo anche qualche picco maggiore durante il primo pomeriggio, minimi tra 1 e 7 gradi, quindi anche di notte valori in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi. Con questo è tutto, grazie per averci seguito. Arrivederci al prossimo appuntamento. SafeGate Pro True U True